Presidente Bartolini, praticamente 70-75 minuti nella metà campo della San Giustese, Fioretti tante conclusioni, ma insomma il gol non è arrivato. Abbiamo peccato nella fase conclusiva del gioco, però la squadra, la prestazione l'ha fatta, avevamo tante assenze, hanno sicuramente pesato, però c'è stato l'impegno, c'è stata la voglia di voler vincere la partita, poi le partite sono fatte di episodi, se la San Giustese invece di prendere il palo interno segna, probabilmente parliamo anche di un'altra partita, noi dopo abbiamo avuto delle occasioni da gol quantità importante, non l'abbiamo messa dentro, poi le partite finiscono 0-0, però la squadra ha risposto a quello che avevo chiesto, cioè a una cattiveria agonistica, a una voglia di voler vincere tutte le partite, penso che se continuiamo con questa intensità poi i punti verranno, non è questo il problema. La cosa positiva è i giovani, in un certo punto è entrato Cipriani, mi pare sia stato nel vivo del gioco, ecco questo è l'aspetto positivo della partita. Sì, noi abbiamo dei ragazzi molto bravi, Cipriani è uno di questi, sono il futuro di questa squadra, ci riteniamo stretti, li faremo giocare, abbiamo Forcini, Antonio e Polletta, hanno giocato anche con la Juniors che ha vinto anche ieri, stanno crescendo molto bene, oltre a Barlafante, Ferrini, Balducci, che oggi secondo me è stato uno dei migliori in campo, sono giocatori che ci siamo cresciuti e che ci riteniamo stretti, ma la squadra non mi sento di dire niente, logicamente, è mancato solamente il gol, questo l'hanno visto tutti, però voglio dire, questo fa parte del calcio, in una partita magari sei in debito, nell'altra avrai più fortuna, speriamo di avere più fortuna nelle prossime partite.